ciao a tutti e benvenuti oggi vi presentiamo l'unboxing della nostra nuova staffa quick release 3.0 e andremo a vedere un tipo di montaggio quello più semplice che riguarda il classico fissaggio della linguetta su il fianco per esempio di un fucile in legno che abbiamo simulato in questo modo dove abbiamo già messo la predisposizione per il montaggio ovviamente questo tipo di sistema può essere montato su oltre 50 modelli di fucili di commercio andiamo allora a vedere nel dettaglio da cosa è costituita la confezione della staffa quindi lasciamo da una parte un attimo la linguetta e andiamo a vedere quali sono i componenti che costituiscono la staffa apriamo la confezione e abbiamo la staffa chiaramente il pomello con la vite a passo fotografico e la rondella di gomma per non perderla un cordino di sicurezza che servirà per legare la videocamera in sicurezza la clip di plastica una coppia di viti che serviranno per un eventuale montaggio della basetta gopro alla staffa sulla sua predisposizione due chiave a brugola una del 2 e una del 3 e poi un utensile particolare un tool che noi abbiamo chiamato in acciaio inox con una doppia predisposizione che servirà per il fissaggio e il serraggio e le regolazioni dei dadi che costituiscono la staffa infine nella confezione trovate un flyer illustrativo che mostra come si esegue il montaggio le dimensioni sia in inglese che in italiano per quanto riguarda la staffa vedete che ha una predisposizione centrale per il passaggio del pomolo una doppia predisposizione per il fissaggio di un eventuale basetta gopro e sotto è realizzata come vedete con dei dadi che mi fanno l'innesto sulla linguetta questi dadi possono essere regolati e quindi io posso regolare la resistenza della staffa sulla linguetta tramite il tool di regolazione noi le diamo già regolate ma se voi volete modificare questo tipo di regolazione con il tool potete allentare o stringere questi due dadi il pulsante classico pulsante a molla della staffa andremo a fare un montaggio il primo montaggio della telecamera con la vite a passo fotografico quindi inserite la vite e poi la rondella la avvitiamo leggermente in modo tale da non perderla ecco qua andiamo a vedere invece cosa contiene la confezione della linguetta quindi chiaramente la sua linguetta faccio notare questo dettaglio di questa vite che c'è nella parte soprastante e il dado nella parte sottostante la clip due viti dal legno se vogliamo applicarla direttamente due viti e dadi di fissaggio se vado a fissarmi su delle boccole uso soltanto le viti se invece questa linguetta va a fissarsi su uno degli adattatori userò le viti e dadi per fissarmi su quella viste adesso i componenti che costituiscono il sistema andiamo ad eseguire il montaggio su una impugnatura come questa prendiamo la nostra linguetta in questo caso io l'ho girata verso l'alto ma potete farla lavorare sia verso l'alto che verso il basso e destro sinistro non ci sono problemi quindi sia sul fianco destro che sul fianco sinistro potete andare a montarla a questo punto la giro verso l'alto in questo modo ecco qua e vado a prendere le mie viti di fissaggio quindi le due viti di fissaggio le inserisco all'interno dei fori presenti sulla linguetta e vado ad inserirle sopra l'impugnatura ecco che mi interviene la chiave del 3 che abbiamo fornito proprio per bloccare questo tipo di dadi come potete vedere la linguetta adesso è montata per quanto riguarda il montaggio tramite il cordino e la clip di sicurezza potete fare un cordino come questo facciamo passare il capo del filo all'interno del foro fino a che non sporge dall'altra parte e poi andiamo a bloccare il cordino in sicurezza così a questo punto possiamo andare ad innestare la staffa la staffa si innesta in questo modo ho le due guide si inseriscono all'interno delle due guide che ho corrispondenti sulla linguetta premo il pulsante e la staffa va a scatto come dicevo prima qua avete due regolazioni su questi due dadi quindi tramite il tool potete allargando quindi stringendo o allentando queste viti potete aumentare o diminuire la resistenza della staffa all'inserimento questo mi permette in questo modo di correggere se nel tempo si dovesse creare il gioco alto-basso quindi un movimento dall'alto verso il basso quest'altra vite di regolazione invece che cosa mi serve? mi serve per evitare il gioco laterale infatti la staffa ha questa sagomatura a V questo ingresso a V che mi permette una volta che l'ho innestata di mandare abbattuta la vite che ho sulla linguetta quindi per esempio con un cacciavite come questo la spingete verso l'interno spingete verso l'interno e al tempo stesso tramite il tool andate a serrare il dado sottostante in questo modo avete un fissaggio assolutamente stabile nel tempo e calibrato di volta in volta su quello che è lo spessore della linguetta una volta innestata la staffa posso andare a questo punto a montare la videocamera quindi ho la videocamera con il foro per la vite a passo fotografico e la vado a bloccare nella parte sottostante poi posso collegare la clip di sicurezza ecco fatto questo mi permette pertanto non solo di non perdere la videocamera ma se ho il sistema montato su un fucile con la telecamera particolarmente arretrata la possibilità di sganciare la telecamera caricare il fucile e riagganciarla è immediato ed è molto sicuro nel momento in cui volete sganciare appunto gli elastici o agganciare gli elastici del fucile io premo e ho la telecamera che mi rimane bassa quindi posso caricare e scaricare gli elastici faccio vedere una seconda tipologia di montaggio e do il montaggio con un adattatore a passo fotografico per un altro tipo di supporto tipo GoPro in alternativa potremo fornire delle basette già lavorate tipo sempre GoPro come queste che potrò andare a fissare sopra la mia staff utilizzerò le viti di fissaggio queste e la chiave A2 per quanto riguarda la testa delle viti e nuovamente l'utensile per serrare i dati inoltre la doppia asola un foro e l'asola centrata rispetto al foro mi permettono di regolare l'orientazione di questa placca GoPro potete quindi vedere che avete molteplici possibilità di utilizzo della staffa diversi montaggi e una assoluta stabilità nel tempo grazie appunto alle due regolazioni del sistema spero che vi piaccia e saluti a tutti grazie 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 a tutti